Ciao, io sono Francesco D'Acri, sono un autore di Milano, un folk singer. Oggi sono qua al Buscadero Day, farò alcune canzoni dei miei, tre dischi, due dischi di brani miei, un disco di cover, l'ultimo disco è uscito ormai un annetto fa, si è uscito al principio di Archimede, farò qualcosa di questo disco. E niente, insomma, sicuramente speriamo che sia una bella giornata, il sole oggi è forte, e quindi cominciamo bene questo Buscadero Day alle 11 di mattina con una birra e una brioche.